Spero venga anche mio padre, quindi sono molto contenta di essere una volta nella mia terra d'origine. Ci siamo visti in occasione della presentazione del film Io che amo solo te, a Benevento, è capitato un po' di tempo fa. Adesso a cosa stai lavorando? Ho finito Non ti pago di Edoardo De Filippo con la regia di Edoardo De Angelis. Mi piacciono le donne complesse, sono le donne che non sono bianco o nero e in genere le donne che non sono bianco o nero sono anche donne molto forti, capaci di vivere intensamente.